può rivedere si può poi iniziare a a fare l'incontro ecco allora intanto buon pomeriggio a tutti l'incontro di oggi è dedicato al passaggio a tariffa rispettiva ma con un focus ovviamente su tutto quello che è utenza non domestica e quindi da bar ristoranti attività varie aziende imprese e qualunque cosa come funziona un po l'incontro visto ne abbiamo fatti già diversi l'indamori di alia che ringrazio anche per la disponibilità a fare tutti questi incontri ha una presentazione che vi farà vedere e che ovviamente spiegherà quindi diciamo tenetevi le domande cerchiamo di non interrompere anche perché l'incontro è misto quindi abbiamo anche quelli che sono a casa diciamo quelli a casa non lo sentono quindi se no l'interazione viene 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 meno quindi lei fa la presentazione e poi come regola di ingaggio fino a che ci sono domande si rimane a rispondere o a chiarire dubbi e cose quindi ecco di solito si fa 4 5 domande si fa un giro di risposte e poi si fa altre 4 5 domande però insomma un po' come vi pare però vi consiglio davvero per esperienza anche in questi giorni di incontri di far finire la presentazione perché comunque la presentazione tocca tutti i temi quindi può darsi anche che poi una qualcosa e dice dopo risolva un vostro dubbio se poi non l'ha risolti c'è lo spazio alla fine per fare le domande voi sapete che comunque è per fare le domande c'è anche l'info point che se non sbaglio dei sei sportelli c'è uno dedicato all'utenza non domestica ai lecci fino al 31 di ottobre e quindi fino alla settimana prossima quindi avete anche l'occasione di andare lì altrimenti vi spiega per le utenze non domestiche come funziona io mi fermo qui come introduzione l'incontro è più per voi insomma per dare modo di spiegarvi di fare domande entrare nel dettaglio di questa situazione ecco io lascio la parola a Linda Mori che ormai si condivide questa questo scenario di presentazione da diversi settimane sì buonasera a tutti grazie per essere venuti anche grazie a chi è collegato da da remoto io sono il responsabile del customer care in Alia allora noi stasera cercheremo di capire tutti insieme come funziona la tariffa corrispettiva perché per le utenze non domestiche noi dobbiamo stare particolarmente attenti al contenitore soprattutto del grigio che abbiamo in dotazione quello del residuo non differenziabile se per voi va bene lo chiamerò grigio tutte le volte che lo rammenterò così per intenderci comunque residuo non differenziabile come sempre faccio alle assemblee occorre fare una premessa contabile che è un po' noiosa però per voi è ancora più importante questa premessa che cosa vuol dire passare a tariffa corrispettiva vuol dire passare da un regime tributario va bene quello del gettito tributario che era la tari ovvero tassa su rifiuti a un regime tariffario questo che cosa significa che il documento di pagamento che vi arriverà sarà una fattura uguale o molto simile nella composizione a quelle che ricevete attualmente di luce acqua gas e di tutte le utenze pubbliche quindi troverete l'iva esposta e chi è in regime di detrazione iva potrà detrarla questo che cosa significa siccome molti di voi probabilmente hanno anche un'utenza domestica sul territorio di montespertoli o forse in uno dei territori dei comuni passati a tariffa corrispettiva lo scorso anno lo dico in maniera abbastanza semplicistica però rende bene il concetto nel regime tributario come funzionava alia faceva e fa tuttora un piano finanziario che riguarda tutti i costi dei servizi erogati sul territorio comunale questo piano finanziario ovviamente poi ci doveva essere aggiunta l'iva quindi alia faceva delle fatture mensili al comune con l'iva l'iva quel 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 liva il comune non la poteva detrarre per cui si capitalizzava a costo il che significa che nelle bollette dei cittadini negli vecchi avvisi di pagamento del tributo non era che l'iva non c'era era inglobata all'interno del tributo quindi non è che prima ora da qui in avanti dal primo gennaio si paga l'iva ma prima non si pagava questo che cosa significa che per le utenze non domestiche non cambia niente perché l'iva grava sul consumatore finale e quindi lo sappiamo ma già prima la pagavano nel tributo mentre per le utenze non domestiche che è in regime di detrazione avrà anche questo piccolo vantaggio di poter detrarre l'iva al dieci per cento l'ho detto in maniera molto semplice però è corretta nel senso che se ci siamo capiti è così che funziona e dovremo condividere la presentazione vado è già condiviso lo schermo no allora devo ritornare su zoom devo andare su condividi schermo questo condividi ok da casa la vedete la condivisione dello schermo se qualcuno fa un cenno con la testa altrimenti bene grazie allora le frecce che cambia pagina io in genere sto in piedi mica è bastata la parte di la ora stasera devo devo sta qui però ce la posso fare allora andiamo avanti sì disposizione certo la mettiamo a disposizione allora quali sono alcuni principi cardine della tariffa corrispettiva va bene allora è importante fare una buona e capillare raccolta differenziata ma questo il comune di Montesperto lo sa già per tutte le utenze perché avete siete circa il 90 per cento di raccolta differenziata ormai da anni è un porta a porta attivato nel 2008 per cui su questo non ci dovrebbero essere dei problemi la tariffa corrispettiva prevede la rilevazione di tutti i conferimenti sia del grigio che delle raccolte differenziate perché il loro rapporto come vedremo successivamente è importante ai fini dell'ottenimento di una premialità vale a dire quella che noi prima chiamavamo una riduzione in fattura adesso la chiamiamo premialità la rile tuttavia la rilevazione dei conferimenti delle raccolte differenziate serve solo per determinare se uno è stato bravo e quindi ottiene la premialità questa riduzione della parte variabile oppure no le raccolte differenziate mai in ogni caso vengono pagate va bene ora ora entriamo nel vivo della questione eh sono già tredici i comuni che sono passati a tariffa corrispettiva l'anno scorso nel duemilaventitré nel duemilaventiquattro se ne aggiungono altri sei che sono quelli perché vedete elencati qui dentro adesso comincio a fare anche un'altra premessa che che è la il proseguo un po' della premessa contabile di prima passare a tariffa corrispettiva vuol dire anche passare a entrare dentro un ambito unico quello che lato che il nostro ente di controllo ha chiamato il per voi l'ats uno ats vuol dire ambito territoriale sovracomunale che cosa significa questo proprio detto in maniera spicciola che tutti i comuni che entrano a far parte di questo ats avranno tariffe uguali il che significa che per esempio è passato Empoli l'anno scorso è passato Montelufo comuni del circondario che voi conoscete benissimo quindi non vuol dire che i i costi del servizio sono riferiti ad ogni singolo comune ma sono riferiti a tutti i comuni che partecipano a quell'ambito e che fanno parte di quell'ambito per cui il costo della raccolta a Montespertoli è uguale della raccolta e dello smaltimento è uguale al costo della raccolta e della raccolta e dello smaltimento di Empoli eccetera eccetera un po' come succede nell'acqua cioè un metro cubo che io stia a Empoli che uno stia a Montespertoli il costo a metro cubo è sempre lo stesso ecco anche qui i costi del servizio entrano a far parte di a far parte di un unico piano finanziario che poi viene rispalmato sulle bollette dei cittadini una e quindi bisogna tenere presente anche questa cosa una piccola puntualizzazione il comune di Montespertoli avendo l'impianto sul territorio eh usufruisce dell'IDA l'indenità di danno ambientale ovviamente questa cosa sarà mantenuta però l'amministrazione comunale ne sa molto più di me però ovviamente sotto forma di o riduzione o egevolazione stiamo pensando a come fare insieme all'amministrazione comunale comunque quell'IDA ci sarà sicuramente anche per il duemilamenti quattro non si saete più niente va bene mi sentite? Sì? Adesso sì e niente e quindi quello che il comune ottiene come indennità di legge ambientale sono quattro euro a tonnellata il comune lo riversa lo riversa nella tariffa e quindi di solito prima si sottraeva dal piano economico finanziario di Alia quindi se costava tre milioni di euro meno seicentomila euro che poteva essere la cifra che arrivava in media ogni anno i cittadini pagavano due milioni e quattro quindi questo si riversa ancora però c'è da capire tecnicamente come si fa perché poi capirete la fatturazione non è come avveniva prima quindi è trimestrale e quindi c'è da capire come e quella poi non è che si spalma su gli altri tredici comuni o gli altri diciotto comuni quindi c'è da capire qual è il momento se si fa a saldo tutta la fine dell'anno o se si fa durante l'anno insomma sono questioni contabili da sistemare tra noi Alia e il lato dei rifiuti ecco non vale solo per noi ma anche per il punto di Montale che ha un inceneritore sul proprio territorio ecco qui entriamo proprio nella parte diciamo un po' più tecnica di come sarà composta la vostra nuova fattura a tariffa corrispettiva qui vi chiedo di stare un po' inattenti perché cominciamo a capire come leggere la futura bolletta ma soprattutto come iniziare a come dire modulare se necessario i nostri comportamenti ai fini di avere una fattura commisurata effettivamente alle nostre esigenze i nostri consumi quelli che chiamavano consumi vale a dire buttare via i rifiuti che produciamo dalle nostre attività allora anche la fattura della tariffa corrispettiva sarà composta da due parti la parte fissa e la parte variabile la parte fissa continua ad essere calcolata così come è calcolata adesso nel metodo di calcolo non ci saranno variazioni quindi un tot di euro al metro quadro in base alla categoria a cui appartenete le categorie sono 31 quindi ci sarà la categoria 1 la 2 la 3 eccetera mentre cambia completamente la parte variabile la parte variabile da cosa sarà composta e con economicamente come punto di partenza guardate bene non è la cifra che che pagherete necessariamente va bene il punto di partenza economico della parte variabile della bolletta è equivalente o meglio è l'equivalente economico di due svuotamenti al mese del contenitore de o dei contenitori del grigio che avete in dotazione il che significa lo lo fa con esempio pratico visto l'anno scorso alcuni comuni sono già passati a corrispettiva e forse ci capiamo meglio allora il costo per esempio euro litro del grigio per l'anno duemila ventitré duemila ventiquattro ancora le tariffe non le conosciamo era zero virgola trentadue centesimi il litro va bene buonasera era zero virgola trentadue centesimi il litro quindi se uno aveva un contenitore da ventitré litri la sua parte variabile va bene a trimestre perché la bolletta sarà trimestrale ne arriveranno quattro l'anno sarebbe stato zero virgola trentadue per ventitré litri per sei vale a dire due svuotamenti il mese un po' per fare un esempio per capirsi meglio a livello matematico quindi uno intanto qui possiamo acquisire già un primo concetto che uno dice ma allora io quale volume di grigio è più adatto alla mia attività intanto so che ne pago comunque va bene il mio importo di partenza è comunque due svuotamenti il mese e so che la fattura è trimestrale quindi è trimestrale io in tre mesi ne pago sei poi che uno ne faccia tutte sei in un mese o che uno ne faccia due 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 non cambia niente ok però diciamo che nel periodo contabile a saldo perché anche questo cambia la fattura è un periodo a copre un periodo contabile a saldo dall'inizio alla fine e sono sempre tre mesi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno eccetera va bene ed è una fattura a saldo al netto di eventuali errori che ci potrebbero essere chiaramente la fattura si può correggere si può fare una nota di credito come succede sempre altrimenti si chiude un periodo e poi se apre un altro e ogni periodo fa parte a sé quindi la parte variabile è composta da questi svuotamenti minimi del grigio io qui vorrei fare vorrei esprimere un concetto perché tanto poi la domanda arriva che cosa c'è dentro questi svuotamenti minimi voi capite bene che anche venire a raccogliere la carta gli imballaggi l'organico ha un costo perché i mezzi girano per il territorio e raccolgono anche tutte le altre frazioni per cui forse impropriamente sono sono stati chiamati svuotamenti minimi del grigio ma voi dovete considerare che dentro quella parte variabile per la norma nazionale che è in vigore attualmente che ci dice che costi del servizio devono essere ricoperti dal gettito di tutte le gli avvisi di pagamento barra fatture che vengono dai cittadini e dalle aziende in realtà in quel grigio ci vanno a confluire tutti i servizi che la norma fa confluire dentro la parte variabile della della fattura il mercato è normato e ci dice nella parte fissa ci vanno a confluire una parte di costi che io vi fa un esempio molto semplice sono i costi indivisibili quelli che non si possono attribuire a un cittadino piuttosto che a un altro va bene come lo spazzamento strade perché noi anche se uno dice davanti a casa mia non ci spazzate no però quando uno viene in centro va alla coppa viene in comune va un ufficio pubblico trova la strada spazzata quindi sono i costi indivisibili che non afferiscono a un singolo cittadino mentre nella parte variabile ci vanno tutti quei costi variabili del che dell'orogazione del servizio in particolare per fare un esempio tutta la raccolta lo smaltimento e l'avvio al recupero di tutti i materiali che noi raccogliamo questo dice la norma nazionale quindi per ritornando al concetto di prima dentro quel costo euro litro del grigio in realtà non c'è solo il grigio ma ci sono tutti i costi della parte variabile che vanno a confluire in quel costo euro litro quindi compreso quando facciamo la raccolta di tutte le altre frazioni della raccolta differenziata questo è un primo concetto importante da ricordarsi e come funziona poi il nostro comportamento ecco qui noi dobbiamo un attimino per come siamo abituati provare a frenare la nostra mente perché noi ora si va avanti no perché si sa come funzionava gli anni precedenti e si sa che ci serveva un numero massimo di svuotamenti di grigio oppure c'era il rapporto va bene per l'utenza non domestica c'è sempre un rapporto quindi eh il costo euro litro con gli svuotamenti minimi dall'importo economico di partenza della parte variabile lo prendiamo e lo mettiamo da una parte cioè la nostra mente se la deve dimenticare un attimo adesso vediamo come ci comportiamo quindi il comportamento sta sopra a quella parte variabile è lì che si misurano tutti gli svuotamenti compresi quelli delle raccolte differenziate ed il regolamento dice che se la mia raccolta differenziata vedete rd resta per raccolta differenziata è ha un valore uguale o superiore al settanta per cento di tutti i rifiuti che produco quindi il rifiuto urbano indifferenziato più le raccolte differenziate io ottengo una premialità vale a dire come vedete scritto nel primo rigo pagherò la parte fissa più la parte variabile decurtata della premialità cioè spendo meno di quegli svuotamenti minimi di cui abbiamo parlato prima dei due svuotamenti mese eccetera ok quindi abbatto la mia parte variabile poi se invece la mia raccolta differenziata rispetto a tutti il totale dei rifiuti prodotti è tra il 41 e il 69 per cento io pago la tariffa base cioè pago la parte fissa e la parte variabile così come l'abbiamo calcolata prima però non è che non conta la mia raccolta differenziata conta è che io sono arrivato magari al 58 per cento e quindi quello pago la parte variabile di base come l'abbiamo vista prima se invece la mia raccolta differenziata è uguale o inferiore al 40 per cento se io faccio svuotamenti minimi maggiori rispetto a quelli che mi sono stati addebitati inizialmente cioè i due mesi e invece di farne sei ne faccio otto ne faccio dodici ne faccio quelle che ho ritenuto opportuno fare tutti quelli in più li pago e quindi la mia parte variabile sarà composta dalla parte variabile più gli svuotamenti in eccesso sempre alla tariffa euro litro quindi non è che c'è una tariffa punitiva uno paga quello che fa di più sempre a quella tariffa lì io vi vorrei dire anche questo ora molti espertoli sono uno dei comuni più virtuosi di tutto il territorio gestito d'aria sono una decina i comuni più virtuosi no quelli specialmente che hanno attivato il porta a porta da tanti anni vi do un dato statistico sulla prima mandata di fatturazione tanto per tranquillizzarsi tutti ecco perché bisogna impegnarsi parecchio per arrivare a questo punto qui su una prima mandata di fatturazione che abbiamo fatto su circa novantacinque mila utenze l'anno quest'anno per l'anno scorso per il duemilaventitré allora circa sessantacinque mila sessantottomila sono rientrate nella premialità quindi nella prima fascia gli altri stanno tutti nel mezzo nella tariffa base e solo 5 600 utenze su novantacinque mila tra domestico e non domestico e tutti insieme sono rientrate in questa fascia qui quindi insomma prima di arrivare a questa fascia qui bisogna impegnarsi parecchio questo questo vi voglio dire io gli farei vedere allora ci sono delle riduzioni sì il regolamento prevede anche alcune riduzioni eh per esempio beh questo non è per le utenze non domestiche perché perché effettua l'autocompostaggio è per le utenze domestiche ma per chi sceglie l'addebito continuativo in conto corrente quindi anche i metodi di pagamento cambieranno ci sarà il pago PA ci sarà il bollettino postale ci sarà la possibilità di fare l'addebito permanente in conto corrente ci sarà una riduzione che è già stata deliberata al 3 per cento su tutto l'importo non solo sulla parte variabile eh le riduzioni per abitazioni ad uso stagionale o comunque per utenze che sono aperte ad uso stagionale sto pensando agli agriturismi se ce ne fosse qualcuno perfetto due signori in prima fila hanno alzato la mano lo dico per quelli a casa eh per i cittadini residenti ah per i eh per i per i conferimenti presso i centri di raccolta per le utenze non domestiche voi sapete avete tutta un'associazione di categoria dovete avere il mezzo autorizzato al trasporto rifiuti quindi è un pochino più complicato e questo riguarda soprattutto le attività produttive perché è in categoria 20 o 21 che a volte hanno bisogno di smaltire e e comunque all'articolo 29 del regolamento c'è tutto l'elenco di tutte le riduzioni che è possibile applicare a queste utenze allora prima di passare alla parte tecnica io vorrei possiamo andare su internet qui sul sito di Alia per vedere il simulatore ah c'è aperto il simulatore guardate questo è se non parlo nel microfono non allora ah perché da casa non lo vedono ok allora no non è questo dovrebbe essere questo ah eccolo qui allora ascolta anche per nuova condivisione e simulatore ma è questo ok scusate meno male ce l'abbiamo fatta allora sul sito di Alia se voi andate a cercare la sezione la sezione della tariffa corrispettiva guardate ve lo faccio vedere proprio dall'inizio allora a provare il simulatore perché altrimenti rischiano di non di non trovarlo gli vorrei far vedere proprio il pericolo nel torio c'è solo il carico che si ha guardato perché era nel catalogo di 2020 quindi non c'ho altro stanno parlando stanno parlando la noblesse che lo posso ti possa vedere ok questa è la home page del sito di Alia va bene tariffa corrispettiva è sia sugli slider in home page che secondo quale apri nel momento in cui l'aprite potete se ce ne troviate un altro va bene che non è quello quello che desiderate però sicuramente qui c'è negli slider lo abbiamo visto prima quindi a forza di girare uno lo trova altrimenti è fisso qua in fondo tariffa corrispettiva scopri di più ok potete andare qui e questi sono i comuni che sono passati l'anno scorso per il per il 2024 il comune di Montespertoli è il primo che abbiamo in cui abbiamo cominciato a fare le attività poi man mano si aggiungeranno gli altri però potete andare su clicca qui qui ci trovate tutte le tutta una serie di informazioni utili che vi può essere utile anche dopo a seguito di questa riunione andare a rivedervi perché che che venga compreso tutto che sia tutto chiaro io lo spererei ma diciamo che è una cosa nuova quindi i dubbi sono normali sono ammessi e se scorrete cosa cambia vedete la raccolta del vetro imballaggio e contenitori dopo ne parliamo richiede ora i nuovi strumenti e scorrendo fino in fondo ci sono tutte le informazioni delle utenze domestiche non domestiche oppure scopri il comportamento che ti premia fai la tua prova andiamo qua questo è un simulatore di comportamento già tarato su un trimestre quindi su un periodo contabile perché vi ho detto la tariffa la fattura è trimestrale si apre si chiude e poi si riparte da capo ok e qui abbiamo inizia la simulazione chi sei un cittadino o un'azienda proviamo a fare con l'azienda ok il profilo per ora abbiamo impostato questo massima differenziata va bene perché sono due profili ma io vincerei con uno solo se cortesemente c'è qualcuno in sala tanto per fare una prova che ci vuole dire in un trimestre che sa che bidoncini ha e che ci vuole dire in un trimestre come si comporta almeno facciamo una simulazione vera su qualcosa che voi potete toccare con mano non so c'è un'azienda qui uno che c'ha un negozio prego pelletteria ok allora guardi partiamo dal residuo non differenziabile lei tipo di contenitore ha quello grigio con le ruote senza ruote piccolino con le ruote due o quattro ruote due ruote quindi potrebbe avere o un 120 o un 240 litri lei lo sa che tipo di contenitore a che uno è più piccolo e più grande di quelli con due ruote c'ha quello più piccolo e quello più grande sono solo di due tipi va bene no lasci stare a proviamo a mettere un 120 litri va bene lei in tre mesi questo contenitore da 120 litri ogni quanto lo svuota ogni quanto ha bisogno di svuotarlo uno smaltitore autorizzato certo che sono rifiuti speciali perché sono scarti di lavorazione io metto due volte e qui già facciamo una prima considerazione ma la facciamo dopo e che vale per tutti intanto andiamo avanti allora vede qui c'è scritto i tuoi svuotamenti minimi sono 720 litri perché lui considera comunque questi 120 litri per sei in un trimestre sono due al mese quindi se io anche l'aumento a tre volte rimane a quattro volte vedete rimane sempre 720 litri perché quelli sono gli svuotamenti minimi che vanno comunque a rifinire nella formula ok due due il mese sì poi facciamo tutte le considerazioni del caso perché si vede già che lei ha un contenitore che non è commisurato alle sue esigenze facciamo tutte le considerazioni del caso perché da quello che lei ci dice lei non ha un contenitore commisurato alle sue esigenze ha un contenitore sovradimensionato potrebbe prenderlo più piccolo e quindi come dire contenere anche i costi della parte variabile della tari perché noi abbiamo detto che è composto il costo della parte variabile economicamente da due svuotamenti mese del volume di rui che abbiamo di grigio che abbiamo in dotazione quindi uno potrebbe avere anche due bidoni certo si fa la somma ok poi a lei all'organico uno piccolino quello da 23 litri e in tre mesi ogni quanto lo svuota più o meno l'organico sì una volta alla settimana quindi certo ora glielo dico ora glielo dico andiamo andiamo in ordine io guardi in tre mesi ci sono dodici settimane perché quattro settimane al mese quattro per tre dodici io gli metto dieci per rimanere un pochino più tranquilli in modo che se una volta o due non ha bisogno di svuotarlo non è un problema poi carta e cartone invece che contenitori ha carta e cartone quello da 660 ne ha uno solo ok quante volte lo svuota in tre mesi una volta alla settimana quindi anche qui mettiamo dieci volte tanto per rimanere un pochino più bassi imballaggio e contenitori quindi il contenitore blu ok quindi ce n'ha due da 240 probabilmente perché noi gli abbiamo dato quello grande vedete allora qui da 240 poi potrete aggiungere un altro contenitore ne possiamo aggiungere fino a 6 quindi potete vedere i contenitori che avete o quelli che prenderete va bene e glielo ne metto due da 240 ogni singolo contenitore di quelli che ha attualmente del blu quante volte lo svuota in tre mesi sì tutte le volte entrambi oppure ogni tanto li alterna dodici volte l'uno e dodici volte l'altro li li svuota sempre insieme ho capito bene ok agli metto guardi dieci volte e dieci volte ok la raccolta differenziata di questo signore va bene di questa azienda è al 79 per cento qua in fondo ci trovate una vignetta che però non è una vignetta vi invito a non prenderla sotto gamba perché in realtà qui sotto c'è scritto avrai diritto ad un premio in fattura quindi c'è scritto esattamente qual è il risultato del vostro comportamento quindi questo signore se si comporta così come ci ha raccontato adesso avrà la premialità in fattura quindi la sua parte variabile sarà abbattuta della premialità eh io però volevo far vedere una cosa proviamo a fare alcune considerazioni insieme perché sono queste le cose importanti che vale più che altro per lui perché ha fatto l'esempio ma vale anche per tutti voi allora vedete lui mi ha detto che ha un contenitore da cento venti litri e che svuota due volte per trimestre però io vi ho detto prima che in realtà si pagano due svuotamenti il mese quindi questo signore ha evidentemente un contenitore sovradimensionato che non gli conviene tenere a parte che li cambiamo a tutti i contenitori perché bisogna fare un reset per darvi contenitori commisurati alle vostre esigenze però qual è il contenitore più commisurato all'esigenza di un'utenza non domestica voi sapete che la fatturazione è trimestrale pago due svuotamenti il mese quindi sono sei svuotamenti io in base alle mie frequenze che ripeto non è detto che siano due il mese in tre mesi uno le può fare anche tutti l'ultimo mese o ma quantomeno siccome ne pago sei in tre mesi prenderò un contenitore di grigio che io svuoterò almeno sei volte in un trimestre almeno sei volte quindi né troppo piccolo né troppo grande perché se ne prendo uno troppo piccolo per cui poi faccio gli svuotamenti in eccesso se non faccio abbastanza raccolte differenziate rischio di pagarlo gli sto dicendo un contenitore più piccolo non uno più grande quindi probabilmente lo spazio lo 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 troverà però vediamo ah sì scusi scusate quelli che sono collegati allora a mio avviso per questo signore proviamo a fare un'altra prova proviamo a trasformarlo un po' cioè giocateci con questo strumento che non è un gioco perché si parla di soldi però dico almeno uno si fa un'idea va bene se lui invece di un centoventi litri avesse il ventitré litri quello piccolino come quello delle utenze domestiche che comunque noi consigliamo di prendere a tutti i professionisti piccoli negozi cioè che ha lo studio avvocati architetti geometri chiaramente prendano quello di casa perché non è che producono tanti rifiuti ma anche chi ha un piccolo negozio è consigliabile prendere quello da ventitré litri purché si facciano le raccolte differenziate ovviamente perché se no non vi può bastare e io questo da ventitré litri invece che due volte per trimestre glielo faccio svuotare sei volte per trimestre allora guardate qui sono centotrentotto litri invece due volte sei volte e mi rimane sempre centotrentotto litri ok in questo caso qui la sua raccolta differenziata vedete è balzata sopra se io proviamo a fare un conto tutti insieme no lui ha detto che il centoventi lo svuota due volte in tre mesi quindi centoventi e centoventi due quaranta fa duecentoquaranta litri di Rui in tre mesi se io faccio ventitré per sei quante viene viene la metà più o meno tre per sei diciotto centotrentotto centotrentotto litri quindi sono sono meno di quello che lui ha detto il contenitore quando lo conferiva era pieno o mancava un pochino a riempimento sì quello grigio quello grigio bene ok allora se vuole uno ne potrebbe prendere anche due di piccolini da ventitré litri se non gli basta ricordatevi sempre che c'è la possibilità di scegliere la batteria di contenitori che è più confacente alle vostre necessità quindi anche di grigio prima di prendere un centoventi va bene per quelle utenze piccoline ovviamente se uno ha un'attività che produce un po' più di rifiuto chiaramente carellati ci sono ma uno può prendere anche due da ventitré litri io potrei aggiungere qui un contenitore metto un altro ventitré litri va bene e lo seleziono per sei volte al mese in questo caso i miei svuotamenti minimi sono ducentosettantasei ma la raccolta differenziata è sempre al noventuno per cento quindi ben oltre no no allora la signora ha chiesto se lo pagava quel grigio in più no non lo paga perché se uno ho detto sono due svuotamenti al mese del rui del grigio che uno ha in dotazione quindi nel caso in cui questo non ci sia pagherà ventitré litri va bene per sei volte nel caso in cui uno abbia due contenitori da ventitré litri pagherà ventitré più ventitré per sei volte infatti diviene il doppio viene duecentosettantasei litri quindi sono gli svuotamenti minimi questi quel costo di partenza che serve per coprire i costi del servizio vediamo ora che cosa succede se questo signore di cui abbiamo fatto l'esempio un attimino eh si comportasse in maniera diversa mettiamo che questa azienda che c'è questa pelletteria che questo signore si è offerto di di rappresentare di carta e cartone se invece di voi tenete d'occhio questa percentuale il novantuno per cento questo territorio dei cartoni da seccentosessanta litri se invece di svuotarlo dieci volte va bene lo svuota tre volte mettiamo una volta al mese la sua percentuale si abbassa a ottantatré all'ottantatré per cento se l'organico da ventitré litri invece di svuotarlo dieci volte lo svuota tre volte siamo già all'ottanta per cento imballaggi e contenitori guardate se invece di dieci volte io li metto tutti tre una volta al mese va bene è comunque è questo che volevo dire è comunque al settantaquattro per cento quindi sopra a quella soglia oltre la quale si prende la premialità cioè quello che voglio dire io è che bisogna parecchio impegnarsi per per non prendere la premialità o per andare sotto la tariffa base perché bisognerebbe che questo signore va bene aumentasse il proprio grigio e oltre le sei per questo è importante commisurare il contenitore alle effettive esigenze uno dice io in tre mesi lo pago sei volte questo bidone quanti rifiuti produco e quindi qual è il contenitore più commisurato per le mie esigenze per svuotarlo sei volte se volte devo cambiare la mia mentalità non prendi il bidone grosso perché è più comodo tanto c'è opposto ma ne prendo uno che sia commisurato a essere svuotato sei volte in un trimestre questo è il concetto perché se poi lui lo prende troppo piccolo va bene questo contenitore ma esatto ma in realtà lo svuota più volte guardi se lei svuota dodici volte questo quindi tutte le settimane e dodici volte questo vede la sua percentuale s'abbassa e arriva al cinquantotto per cento prima di arrivare sotto il quaranta per cento guardate è veramente difficile lo vedete che io ci sto provando ma non ci riesco quindi rientra qui nella tariffa base quindi il meccanismo qual è questo vale sia per le vostre aziende che per casa vostra questo è un concetto abbastanza può essere complicato più a raccontarlo che a farlo poi ci sono gli svuotamenti minimi io so che il mio importo di partenza è quello quindi prenderò un contenitore commisurato ad essere svuotato sei volte del grigio ad essere svuotato sei volte in tre mesi e ci metto un punto dopo di che vedo quante raccolte differenziate faccio se le mie raccolte differenziate sono così capienti come nel caso del signore per cui il mio livello di raccolta differenziata rimane comunque sopra al settanta per cento non solo non pago gli svuotamenti in più del grigio ma ottengo pure la primialità guardate l'organico lui aveva detto dieci volte carta e cartone avevo messo dieci volte qui avevo messo dieci volte e qui avevo messo dieci volte la raccolta differenziata all'ottantadue per cento ma lui qui avrebbe svuotamenti aggiuntivi per ducentonopantanove litri ma che cosa significa avevo detto andate a vedere la signora in fondo ottimo differenzi l'ottantadue per cento dei rifiuti avrai diritto ad un premio in fattura guardate questo vale per le vostre aziende ma anche per casa vostra perché questo calcolo qui non cambia la percentuale il comportamento è sempre lo stesso per tutte le utenze quindi prendere un contenitore non misurato anche a casa cercare di starci un pochino attenti va bene ma se uno fa correttamente capillarmente le raccolte differenziate anche se ha bisogno di svuotare il grigio qualche volta in più rispetto a quelle che paga rispetto a quelle che paga a fattura se comunque la sua raccolta differenziata è sopra il settanta per cento o comunque oltre il quaranta o paga la tariffa base cioè paga quelli o se no ottiene anche la premialità come abbiamo visto in questo caso perché lui ha degli svuotamenti in eccesso perché l'ha svuotato il doppio e entrambi i contenitori piccolini gli ho segnato per gioco per prova due contenitori da ventitré litri che ha svuotato addirittura questo mi è venuto tredici guardate lo rimetto a dodici va bene che ha svuotato dodici volte sia l'uno sia l'altro il che vuol dire che tutte le settimane che noi passiamo li ha svuotati entrambi quelli del grigio avrebbe svuotamenti aggiuntivi per 276 litri ma siccome la sua raccolta differenziata è all'ottantatré per cento lui questi qui non solo non li paga ma prende pure il premio questo è un concetto io vi chiederei ad andare via da qui e da aver assimilato se non sono stata chiara sono disponibile a ripeterlo a fare anche altre prove perché questo è importante soprattutto per voi sia come ottenze non domestiche soprattutto ma anche per casa vostra perché questo meccanismo non cambia è uguale ci sono delle mani alzate ma c'era la signora e se no non ci sentono a casa quindi per fare le domande ci dovete dare il tempo anche di rifare è quello da centoventi litri quello lo vedo da qua sì sì allora io le ripeto le domande e poi riprendiamo allora la signora ha domandato siamo nel caso di un agriturismo innanzitutto la signora ha domandato se deve prendere siccome l'ha raccolta ovviamente in base anche alle presenze immagine le persone ha dei mesi sono tanta raccolta e dei mesi una raccolta molto scarso a settimane ecco quindi questa è la prima domanda poi la fine Grazie. Allora, questa domanda invece era, tanto poi si fa un giro di risposte su come funziona il calcolo base della tariffa e se c'è convenienza avere bidoni effettivamente dimensionati per il fabbisogno dell'azienda e quindi svuotarli praticamente sempre oppure viceversa. Poi c'era una domanda della Deborah che era sullo spazio da avere a disposizione e quindi chi ha spazio e chi non ha spazio come fa per gestire i bidoni in maniera opportuna. Sulla questione sempre simulatore eccetera della tariffa. Grazie. Questo tema è l'azienda agricola e il numero delle questioni. Poi sull'azienda agricola c'è il tema dell'uscita che si è affrontato al primo incontro con Alessia Arrighi e che poi Alia spiegherà nei prossimi mesi in maniera puntuale perché questo sta già accadendo in alcuni comuni e sono già passate a rifiuti rispettive e quindi la famosa uscita che non doveva accadere ma che prima o poi accade dell'azienda agricola e del sistema dei rifiuti urbani. Quindi per l'azienda agricola c'è un elemento di complicazione ulteriore rispetto a tutto il resto. Katia? Bene, l'ultima è l'azienda agricola e il tema del... che ha già un soggetto privato e fa lo smaltimento e quindi come si deve comportare se continua con il sistema che è ora oppure deve rivolgersi in un altro modo Alia. Io fermerei l'ultima perché se no non si finisce le slide noi oggi. L'ultima riguarda un'azienda metalmeccanica e il fatto che ovviamente smaltendo tutti i rifiuti in maniera speciale non ha svuotamenti del grigio da fare perché ne fa uno o due l'anno. Sintetizzo, lascio la parola a Linda. Se qualcuno da casa poi ha delle domande ce le scrive in chat e noi si rispondono anche a quelle. Però dopo questo giro vedrei la fine delle presentazioni perché se no ci manca un pezzo di discussione e penso che qualcuno debba poi andare a aprire il negozio, anche vedo qui che guardano l'orologio. Bene. Allora, cercherò di essere veloci. Come mai mi succede questa vostra? È un touch molto sensibile. A distanza lo prende proprio. Allora, per gli agriturismi, quindi l'agriturismo, come da vedere, prende tutto, questo lo dico in generale per tutti. Se è aperto tutto l'anno o se ha una stagionalità perché c'è anche la riduzione o comunque l'abbattimento per l'utilizzo stagionale e quindi per l'apertura stagionale di queste utenze. Nel caso in cui voi affacciate un'apertura stagionale potete usufruire di quell'abbattimento lì e quindi aprire solo in base all'altra stagione. Altrimenti se siete aperti tutto l'anno il mio consiglio è quello di prendere dei contenitori, come dire, commisurati alla parte dell'anno in cui lavorate meno, va bene? E poi di chiedere un incremento, noi ve li portiamo a casa o venite a prenderveli, di contenitori magari un po' più grossi per quei mesi in cui avete una maggiore produzione di rifiuti. Questo lo possiamo fare, ok? In modo che così gli svuotamenti, è stagionale lei, in modo che così gli svuotamenti minimi vengono calcolati per il periodo di bassa produttività di rifiuti sulla base di un contenitore magari più piccolo, da 23 litri piuttosto che quello da 120. Se poi durante l'altra stagione avete bisogno di 220 o di contenitori più grandi, almeno lo pagate solo per quel periodo lì, ok? Poi, è meglio avere contenitori due, grandi o piccoli? Io lo ripeterò fino alla nausea. Allora, non è, lo dico, non è conveniente avere contenitori sovradimensionati. Cioè, uno che li svuota meno di sei volte ogni trimestre. Questo non è conveniente per voi. Però, non è che uno può prendere un barattolino così e poi mette sacchetti fuori, perché sacchetti fuori non si possono mettere. Questo rientrava nella parte, quella del servizio che guardiamo dopo. Però, ve l'anticipo, sono ammessi materiali in esubero rispetto al contenitore per le raccolte differenziate, perché se uno ha delle cassette piuttosto che... e quindi uno li può appoggiare ordinatamente fuori, accanto al proprio contenitore, ma non sono ammessi materiali in esubero per il grigio, ok? Quindi, tutto quello che dovete buttare via deve stare all'interno del contenitore. Quindi, meglio più grande o più piccoli? Io tenderei un po' al piccolo, però usiamo il buonsenso. Cioè, questo non vuol dire che bisogna prendere tutti i bidoncini a 23 litri, perché se poi non ci bastano, si rischia di pagare gli svuotamenti di eccesso. Insomma, è bene essere onesti, nel senso, prendiamo contenitori commisurati alle esigenze effettive che abbiamo. Lo spazio per i contenitori, non so dove l'ha tenuti fino adesso, o che cosa aveva la signora. Sì. Va bene. Però a livello di dotazione, cioè, non cambia niente rispetto a quello che è stato fino ad ora. Sì. Esatto. Esatto. I materiali in esubero che vengono messi fuori dal contenitore, l'operatore non li può misurare. Per due motivi. Uno, perché noi non possiamo affidare all'operatore su strada una responsabilità così grande di dire, questo sono 100 litri, questi sono 50, questi sono 20, questi sono 80. E lui non lo sa, perché non lo può sapere. Secondo, anche a contestazioni da parte vostra. Perché uno dice, guarda, l'operatore mi assegnava 50 litri, ma era almeno 200. Ecco, ve lo immaginate un lavoro di questo tipo. Invece il contenitore ha una sua misura, voi sapete esattamente la misura del contenitore quando lo ritirate, se è da 50 litri, piuttosto da 100, da 200, quello che è. E noi tutte le volte lo consideriamo pieno. Cioè consideriamo il volume del contenitore, per non dare addico a contestazioni. No, alla chiave non ce l'abbiamo. Poi, io andrei avanti, scusate con le risposte. Posso dimostrare su questo? Comunque, sul giochino dei bidoni, grandi o piccini, è sempre una proporzione. Quindi, poi magari vi conviene, e questo ve lo dico in maniera veramente spassionata, arrivare ai lecci in maniera che uno guarda direttamente la situazione dell'azienda, no? Con i bidoni alla mano e lo guardate. Però è una proporzione, no? Quindi ci sta anche che te con, magari ti basterebbe ridurre il volume di grigio per dire, magari tu ce l'hai da 45 litri ora, e ne so, e non, insomma, non lo so, ecco. Può per dire, tu lo pigli da 23 e già quello ti fai il giochino per quell'altro. Oppure, non so, con l'organico, cambia una dimensione sola e uno ti ci rientra. La signora diceva, io l'organico non ce l'ho. Magari può servire anche a qualcuno delle persone che sono collegate. Ovviamente uno studio medico, piuttosto che un avvocato, un commercialista, ci sono tante utenze, piccole utenze, che non hanno il contenitore dell'organico. Non è necessario prenderli tutti. La gestione in privativa è solo per il grigio, per il ruo. Gli altri, se uno non ne ha necessità, può non prenderli. Certo, questo non lo agevola nel contribuire a fare le raccolte differenziate. Ora, non è detto che uno, perché se non li producono, questo signore, pur avendo pochissimo organico, la riduzione l'ha presa lo stesso. No, allora, c'è, allora, proviamo, allora, la signora ha detto giustamente, no? Dice, allora, io per me è più difficile ottenere la premialità. È vero, lo dico anche per quelli che sono a casa, ma anche per le persone che sono qui in sala. Noi stiamo mettendo mano, insieme al lato e ai comuni, al nuovo regolamento. Non vi volevo dare tante informazioni tutte insieme, perché poi rischio di fare confusione. E lo so che il cervello umano già è tanto, se si è capito quello che ho detto fino ad ora, che è già abbastanza, abbastanza, diciamo, importante. Però vi anticipo questa cosa qui, in merito all'osservazione giusta che ha fatto la signora. Allora, per il prossimo anno stanno rivedendo sia le soglie per l'ottenimento della premialità, perché il 70% è davvero molto basso, quindi si raggiunge molto facilmente, come avete visto dal simulatore, soprattutto per chi ha grandi produzioni di rifiuto organico, che è quello che pesa di più. Perché questo simulatore, noi si parte dai volumi, ma il calcolo viene trasformato in peso. E li trasforma in peso, e quindi l'organico è quello che è il peso specifico più alto. Quindi aumentare la soglia, ma allo stesso tempo per quelle utenze che non hanno il contenitore dell'organico, o che non sono tipici produttori di organico, vale a dire negozi, abbigliamento, scarpe, mercerie, tutto quello che vi fare, in realtà abbassarla. E come dire, la butto là, ma a titolo d'esempio, ora lo so che è registrata, lo ripeto, è a titolo d'esempio perché non so quello che verrà fuori. Però come dire, aumentare la soglia di quel 70% all'80% per chi ha anche la produzione d'organico. Ma per chi non ha la produzione d'organico, magari abbassarla ai 60 o ai 55, in modo da dare l'opportunità anche a chi fa solamente carta e cartone, imballaggi, di poterla comunque raggiungere. Perché di fatto quell'utenza è impegnata, come le altre, a fare una raccolta differenziata capillare. Solo che essendo non domestica e non producendo organico, non può essere, come dire, penalizzata per questo. Ok? Esatto, dipende da tutti gli altri svuotamenti. Poi, per le aziende agricole, chi ha già uno smaltitore autorizzato, continua a fare come ha fatto fino adesso, cioè non cambia niente. Un signore ha detto, ho ricevuto 20 lettere. Forse ha diverse utenze, lei ha diversi contratti per l'Afari. Ha diversi immobili, ok. Quindi ha diversi contratti, sì. No. No. Sì. Esatto. Sì. no allora allora veniamo lei richiede il sopralluogo la prima cosa da fare è chiedere un sopralluogo da parte di un nostro tecnico domani sera vengono a farle il sopralluogo questo signore diceva che ha diversi immobili sulla sua proprietà e quindi come dire si viene a rivedere tutta la situazione dei contenitori e capire quali sono le superfici soggette a tariffa e quali invece sono escluse perché le aziende agricole alcune superfici le hanno escluse quindi c'è da fare una revisione completa dell'utenza probabilmente da lei comunque quando si viene a fare il sopralluogo ora in linea teorica da qui per me è difficile invece quando si viene e si guarda forse tutto è tutto molto più semplice esatto certo e anche per l'officina metameccanica eh la signora che diceva che svuotava il contenitore piccolino una volta l'anno io glielo ripeto signora allora quello che noi chiamiamo svuotamenti minimi in realtà è un servizio minimo che riguarda il contributo che ogni utenza deve dare ai fini della copertura dei costi del servizio che noi diffondiamo sul territorio quindi sicuramente prendere il contenitore più piccolo per lei quello più piccolino di tutti non so se attualmente ha un trentacinque litri non cinquanta litri che sono quelli vecchi quello piccolino è quello allora sicuramente lì si dà quello piccolino e meno di quello non gli si può dare perché c'è l'abbattimento delle superfici la domanda era questa l'abbattimento delle superfici perché le superfici produttive o dove vengono prodotti rifiuti speciali certo quella viene mantenuta come sempre anche perché questa è una norma nazionale non riguarda il regolamento il regolamento è attualmente in uso per cui in linea generale tutte quelle utenze che sono attivi utenze non domestiche che sono attività produttive e che fino ad oggi hanno usufruito dell'abbattimento delle superfici continueranno ovviamente ad averlo in virtù della norma nazionale che è il dpr 158 del 99 se qualcuno se lo vuole andare a guardare ok allora io andrei avanti con la presentazione a questo punto se mi rioriento qui adesso entriamo nella parte è successo al corso c'è la finestrina c'è la finestrina sì va benissimo non gira la pagina bisogna girare la pagina troppo oggi questa siamo qua scusate chiedo scusa allora eh per quanto riguarda la tracciabilità di tutti i conferimenti di rifiuti qui entriamo nella parte del servizio adesso eh chiudiamo con la fari calcoli entriamo nella parte pratica quella che vi riguarda più che riguarda i vostri contenitori le vostre attrezzature tutti i contenitori dovranno essere dotati di questo tag sono delle tette adesive noi ve li vediamo già con queste etichette appiccicate sopra perché queste sono quelle che noi leggiamo che tecnologia usa questa etichetta in realtà c'è un codice a barre scritto in chiaro ma noi non leggiamo i codici a barre come al supermercato noi leggiamo il circuito elettronico che è all'interno di questa tesserina ok è come l'avete presente le nuove casse di di decathlon quelle dove si butta tutto dentro la vaschetta e quello legge tutto e la gabbia di faradai cioè legge l'alta frequenza e quindi anche il telepasso utilizza una tecnologia che è uguale a questa sostanzialmente quindi si legge il circuito elettronico che è all'interno della tesserina e leggiamo tutti i conferimenti di rifiuti infatti vedete qui abbiamo per le utenze non domestiche eh carta cartone imballaggi organico e residuo non differenziabile alle utenze domestiche daremo e anche ai negozi anche ai negozi che non hanno tanto spazio per tenere il bidone blu possiamo dare i sacchi perché anche i sacchi saranno taggati quindi chi ha delle utenze molto piccole sto pensando soprattutto ai negozi o sempre agli studi professionali può prendere anche i sacchi così come le utenze domestiche eh che magari li prendono meno posto invece di avere sempre il bidone un po' lì tra piedi poi se uno sceglie il bidone può prendere il bidone non è un problema eh le utenze domestiche ovviamente hanno queste attrezzature qua però parliamo facciamo un focus sul non domestico come vedete ci sono sia contenitori piccoli come uguali alle utenze domestiche quelli che vediamo qui senza le ruote ma ci sono anche i contenitori grandi ok quelli con le ruote che voi avete conosciuto fino adesso cioè sotto questo aspetto non cambia niente dovete solo fare una revisione a questo punto perché sono più di dieci di dieci anni che c'è la raccolta porta a porta e cercare di capire qual è il contenitore più commisurato alle vostre esigenze anche perché uno mi può domandare ma i contenitori delle raccolte differenziate devono essere devono essere svuotati quando sono pieni perché che il grigio si svuota quando è pieno ormai sono dieci anni e ce lo diciamo e su quello no non credo ci siano dubbi va bene ma quelli delle raccolte differenziate devono essere pieni allora dovrebbero essere almeno in buona parte riempiti io qui non voglio dire una cosa per un'altra però non ci prendiamo in giro né un telefono mi prenda un contenitore con quattro roti della carta se poi dentro ci mette due scatoline perché così vuol dire prendersi in giro quindi prendere dei contenitori all'interno del trimestre quando io gli svuoto abbiano un buon livello di riempimento dove buon livello lo traduciamo con un po di buon senso diciamo più della metà almeno più della metà ce la vogliamo raccontare così ecco una cosa del genere un attimo un pochino avanti poi ci sarà la raccolta di separata del vetro se poi uno ha delle domande lo dico soprattutto per rispetto di chi si è collegato e come qui in sala delle persone continuano giustamente ad alzare la mano e lo capisco però gli dico signora se poi ha bisogno di informazioni più puntuali precise io rimango se qualcuno poi si vuole avvicinare al tavolo cercate di fare le domande che possono servire anche a tutti non la vostra utenza specifica altrimenti si fa un sopralluogo come ho detto a quel signore là e veniamo e guardiamo per esempio avete fatto sì è quello da 660 va bene allora cosa cambia ci sarà la raccolta separata del vetro vale a dire che nei contenitori azzurri nuovi che vedremo che sono molto simili a quelli vecchi ma hanno il tag in più hanno questa fesserina attaccata oppure nei sacchi per chi prende i sacchi ci deve essere conferito tutto ciò che ci buttate attualmente escluso il vetro che viene raccolto separatamente quindi per chi ha barattoli in vetro anche tipo la marmellata o il tappo continuiamo a buttarlo che sia in plastica o che sia in metallo lo continuiamo a buttare nel bidone blu o nel sacco blu mentre il solo vasetto di vetro lo conferiamo nei punti di raccolta sul territorio i punti di raccolta saranno delle ecotappe che sono delle cose molto interessanti in realtà perché è un servizio di prossimità stiamo cercando insieme all'amministrazione comunale dei luoghi presidiati perché presso le ecotappe potranno essere conferiti anche alcuni piccoli e sottolineo piccoli materiali che non trovano collocazione nelle raccolte domiciliari quelle del porta a porta ma che dovrebbero essere conferiti al centro di raccolta mi riferisco ai piccoli elettrodomestici le pile esauste l'olio esausto da cucina i toner delle stampanti le cartucce eccetera quindi oltre al vetro ci potranno essere portati una serie di piccoli oggetti da buttare via che non possono essere buttati nelle raccolte domiciliari ovviamente non ci si può andare con la televisione da 50 pollici perché quella un c'entra se però uno c'ha un cellulare rotto o un tostapane o quelli per i rai per esempio la misura è 30 per 30 ma è inutile ora vi dia tutte queste cose piccini e piccoli piccole cose sì la raccolta separata del vetro si è resa opportuna se non diciamo quasi indispensabile e come in tutte le cose ci sono i pro e ci sono i contro io sono 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 convinta di questa cosa però uno studio di coreve che il consorzio nazionale di recupero vetro ha dimostrato che la raccolta migliore del vetro la otteniamo facendo una raccolta monomateriale attualmente monomateriale vuol dire solo di quella materia lì attualmente buttando tutto insieme che cosa succede che il vetro si frantuma e le schegge di vetro si vanno a infilare magari nelle plastiche vanificando così parzialmente la raccolta del vetro ma anche la raccolta delle plastiche perché poi togliere le piccole schegge che si vanno a insinuare nelle bottiglie nelle plastiche nel polistirolo che noi mettiamo dentro capite bene che è impossibile quindi si si recupera poco dall'uno e dall'altro materiale invece la raccolta separata scopre il vetro è un materiale fragile che si rompe in modo che rimane sempre comunque tutto vetro questo è il motivo eh le tappe quindi sono saranno posizionate in molte frazioni del territorio qui abbiamo messo una lista a titolo di esempio quella su cui l'amministrazione comunale insieme a noi sta riflettendo che appunto vedete capoluogo martignano ortimino montalbino vediamo se ce la facciamo a metterle un po' da tutte le parti ci stiamo provando però insomma stiamo facendo un tentativo abbastanza spinto diciamo così per cercare di metterle poi se c'è qualche utenza non domestica ha tanto spazio e vuole vuole darci una mano pensa anche alla cantina c'è Fabrizio che potrebbe essere un'idea anche per tanti agricoltori avere uno spazio e poi la sera si chiude potrebbe essere anche una cosa a valutare insieme e quindi questo se qualcuno ha un'idea si sta facendo ora in piano quindi ditecelo e noi si affronta insieme ecco stiamo sì stiamo cercando o campane stradali stiamo cercando di razionalizzare il posizionamento di queste campane possibilmente più vicino possibile ai grandi produttori di questo di questo materiale signora vediamo dove c'è vediamo vediamo dove riusciamo a posizionarle queste campane e queste ecotappe signora la raccolta del vetro diceva la signora si si lamentava del fatto perché quelle a casa non sentono si lamentava un po' del fatto che poteva e può essere possibile magari gli capiti un contenitore un po' lontano dalla propria attività e quindi caricarselo in macchina io ho detto che cercheremo di mettere questi contenitori più vicini possibili e grandi produttori più vicini possibili vuol dire che non tutti ce l'avranno io non sto dicendo questo però sicuramente chi è un grande produttore come un agriturismo magari che ha un certo numero di camere un certo numero di ospiti eccetera noi cercheremo di metterla più vicino possibile questo è nelle nostre intenzioni anche nel progetto che stiamo condividendo l'amministrazione comunale poi vediamo signora io ora teoricamente da qui non sono state ancora decisi punti o comunque forse qualcuno ma è un percorso il vetro non viene fatto con il sistema porta a porta perché nella nella ts1 va bene il servizio a parte standard e comunque fare anche dei turni di raccolta del vetro ovviamente ha un costo cioè i costi del servizio come dire le eviterebbero in questo caso qui e la raccolta del vetro siccome ci sono solo alcune utenze non domestiche che hanno una grande produzione di vetro perché le utenze domestiche in realtà va bene sì ci possono essere delle famiglie che ne producono un po' di più ma mediamente la produzione non è molto alta e con il sistema a campane a cassonetti stradali o a campane stradali o comunque di punti di raccolta sul territorio è come dire il servizio che trova il giusto punto di equilibrio tra servizio erogato e costi per la raccolta di questo materiale perché certo giungo una cosa però l'unica cosa su cui non si può fare la raccolta porta a porta è proprio il vetro perché ovviamente è un tema di sicurezza lavoratori anche no no però su questo Caterina scusami però io non ti ho interrotto e quindi te non interrompi me allora il tema è chiaro da questo punto di vista cioè c'è da far far meno lavoro possibile a entrambe le parti quindi da parte nostra noi siamo molto critici sulle campane quando abbiamo iniziato a pensare a questa roba perché le campane pensiamo specialmente un territorio aperto possono essere fonte anche di abbandono dei rifiuti lì accanto però detto questo come ho detto prima sulla cantina eccetera cioè noi siamo disponibili siccome si è fatto apposta gli incontri per capire quali sono le vostre esistenze bene se si dice di campane noi se ne aveva 180 prima di campane nel 2008 si dice bisogna rimettere 180 campane e quindi risparse a meno di 200 metri in media da ogni abitazione si rifà questo ragionamento qui tutti insieme cioè non è un problema affrontarlo si è messo le cotappe si sta lavorando per capire quanto costano cassonetti interrati per fare il conferimento in alcuni punti è ovvio che ci sono due esigenze sostanzialmente i grandi produttori di vetro come chi produce il vino magari o l'agriturismo eccetera e chi fa somministrazione perché poi il resto non è che produce quantità di vetro importantissime no quindi detto questa roba sì ma lei c'è allora che fa somministrazione c'è anche turismo sì certo però insomma diciamo definisco così somministrazione in termini sì è pericoloso anche per chi fa la raccolta quindi il tema è provare a trovare un equilibrio per farvi fare meno fatica a voi e meno lavoro a Alea perché noi bisogna ridurre giorni di raccolta perché noi oggi raccogliamo su sei giorni se si vuole provare a battere dei costi da qualche parte prima o poi bisogna passare a cinque che è l'ultima cosa del calendario quindi bisogna provare a farle sto lavoro poi e si prende tutti i grandi produttori tanto si sa quali sono e si mette la lampana più vicina possibile no ciao un contenuto proviamo proviamo ad andare avanti così ci 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 liberiamo anche un pochino prima allora eh quindi ci sarà la raccolta del vetro mentre i sacchetti e contenitori serviranno per i contenitori per le utenze non domestiche i grandi produttori per di imballaggi il vecchio contenitore azzurro questo vale soprattutto per le utenze domestiche o per chi non ha tipicamente questa questa produzione se volete lo potete tenere noi non è che vi richiediamo la restituzione gioco per forza magari lo potete utilizzare come supporto per agganciare il sacco azzurro per chi prenderà i sacchi per chi prende un contenitore nuovo blu no chiaramente se non venire trovate due poi uno è taggato e uno no e quindi fate confusione ma per chi opterà per i sacchi i piccoli produttori se ha spazio e vuole tenere il vecchio contenitore blu lo può ottenere lo utilizza magari come supporto per agganciarci il sacchettone ovviamente su strada deve essere esposto il sacchetto e non il contenitore perché aveva sessanta mantiene sessanta gli si danno nuovi se la metà era vetro se una buona parte era vetro può prendere contenitori più piccoli ce l'abbiamo di tutte le misure e ripeto le combinazioni possono essere più di una in base agli agriturismi alla dislocazione degli appartamenti alla dislocazione della vostra azienda perché non ci sono solo gli agriturismi ci sono anche aziende piuttosto grandi che hanno due tre quattro edifici e quindi potete invece optare per un contenitore grandissimo che magari movimentate anche male ne potete prendere tre o quattro di quelli più piccoli che magari li movimentate meglio questo è a vostra discrezione questo è il calendario allora scusi sono arrivata al fondo allora questo è il calendario quello standard la raccolta sarà su cinque giorni il lunedì e il venerdì l'organico il martedì la carta e mercoledì il multimateriale leggero quindi non il vetro e il giovedì residuo non differenziato e ci sarà previsto anche ripasso carta solo per le utenze non domestiche che chiedono questo servizio aggiuntivo carta d'intera raccolta della carta per i grandi produttori di carta e cartone perché qui ora sempre tutti bevano in vino e basta però in realtà c'è anche carta e cartone forse qualcuno esatto adesso dopo la faremo da gennaio il martedì e il giovedì non ho capito ho capito allora fateci presente questa esigenza va bene e vediamo se riusciamo a cambiare vediamo quanti siete o quanti preferite cambiare questo giorno di ripasso eventualmente possiamo anche studiare una cosa una cosa diversa insomma vediamo è vero martedì e giovedì sono parecchio ravvicinati però ciò non toglie possa essere valutata anche una cosa differente insomma non è non è quello il problema allora il nuovo kit io vi chiedo cortesemente di attrezzarvi tutti va bene per ritirare questi nuovi kit di contenitori noi siamo fino al 31 ottobre al centro per la cultura del vino ai lecci siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 e il sabato mattina dalle 8 e 30 alle 13 stiamo per chiudere quindi dopo non è che uno non potrà andare da nessun'altra parte però andate a fare la fila a empoli o a castelliferentino o nei posti che conoscete chi ha aziende più grandi vado a dire attività produttive o che ha superfici importanti e che adesso utilizza i contenitori carrellati chiamate il nostro call center e prenotate una visita a domicilio da un nostro informatore che vi consiglia parla con voi vede la vostra situazione facciamo dei controlli e sicuramente vi consigliamo i contenitori più adatti a voi eh numero verde ve lo ve lo ve lo dico allora questo voi ricordatevi anche un attimo scusi eh signora ricordatevi anche che i nostri sportelli sono circolari il che vale a dire che tutte le operazioni che vengono fatte sul territorio di Montesperto da parte degli sportellisti di Alia in realtà possono essere fatte da qualunque altra parte quindi se uno va a Firenze va a Empoli va si diverte a fa 100 chilometri oppure c'è un parente a Borgo San Lorenzo noi abbiamo uno sportello anche lì fa esattamente le stesse cose e fa su Montesperto quindi scegliete pure lo sportello che per voi è più comodo se qualcuno di voi si sposta per lavoro o ha bisogno di di andare da un'altra parte può andarci eh il numero verde è sul sempre sul sito di Alia riandiamo su zoom interrompi condivisione riprendo la condivisione dove condividi se riandiamo sul sito di Alia dove Marimma Santa vediamo se da qui mi da qualcosa questa è ok sull'home page c'è scrivici chiamaci o scrivici il numero verde è questo i numeri del call center sono questi qua sì sì anche il magazzino comunale sarà da fino a che loro finiscono il trentuno di ottobre dove le utenze domenze sono andate finora ecco insomma sì sì ce l'avete tutti allora la prima domanda visto che tu aspettavi poi c'è Giacomo no questo gliel'ho detto all'incontro a Ortimino eh sì le si va se no puoi mandare una mail anche all'ufficio tributi le dice attualmente che che bidoni c'ha giusto vuole sapere questo eh sì così eh sì però lei vuole sapere i suoi bidoni di cui dimensione sono eh allora lei bene no per me no perché li devi cambiare le li danno della stessa dimensione le vuole eh però va giù all'ufficio tributi o gli manda una mail gli dice nella mia utenza e gli dice come si chiama l'agriturismo eccetera che bidoni c'ho e loro dicono bene c'ha un blu da 660 una carta da 240 e se lo stampa va ad Alia e gli richiede uguali oppure prenota la prenota il call center prenota la consegna quelli vengono consegnati a domicilio gli riranno uguali sì sì va bene posto allora Giacomo poi c'è allora ritiro dei bidoni vecchi vai poi si risponde dopo ah fanno un'altra cioè la parrocchia della torre associazioni prego sì eh si ha prenotato forse un mese e mezzo fa poi si rilegano tutte le domande ce ne sono altre? vai sì sono sostanzialmente provo a semplificare se soprattutto eh cioè se tutto vale per ogni categoria dell'azienda un'azienda che ha più categorie se la raccolta è preferenziata va fatta per ogni categoria dell'azienda ora poi ve lo spiego allora sì ora vi risponde Linda poi altro sì sì è il momento delle domande quindi vai Caterina quindi non lo conferisce ma c'è la compostiera però utenza domestica no però è non domestica ora ve lo spiega Linda domanda era sulla compostiera ancora non vedo domande vai Andrea Frosali volevi di qualcosa? no 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 vai bene vai diciamo questo è un tema che in teoria non influisce sulla cambio di tariffa perché questo sì sì no no allora lo spiego lo spiego allora la domanda è questa c'ho un bar c'ho un po' spazio e tengo i bidoni accessibili sostanzialmente a chiunque la gente poi mi ci butta la roba sua o fa il suo porco comodo e mi mette la plastica e posto la carta ecco quindi se è possibile avere dei bidoni con la chiave chiedono sostanzialmente Fabrizio per la nostra stanza stanza ma si 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 lo stesso tema di prima allora questo è per quelli a casa non t'hanno sentito è un po' allora il tema è lo stesso di quello dei bidoni prima dei bar mettere fuori i bidoni in un'area accessibile a chiunque e poi la gente ci butta l'indifferenziato dentro qualunque come ci si deve comportare ora Fabrizio poneva un tema anche di agli aspostati e lì non vengono raccolti poi da alia quindi ecco come ci si deve comportare ma questa buona considerazione si fa alla fine Daniele Daniele Sì poi si rileggono le domande però la domanda era un'enoteca ovviamente io poi il vetro mi finisce fuori dal conteggio dei conferimenti quindi se mi sballa un po' la percentuale raccolta differenziata si fa un po' di risposte eh perché le domande sono già un pochine va bene? do la parola a Linda allora per quanto riguarda il ritiro dei vecchi contenitori su allora aspettate arrivo sulla condivisione sempre sul sito di alia abbiamo rivisto insieme al sindaco peraltro perché eh non siamo tanto conoscitori approfonditi di territorio e quindi tutte le frazioni tutte le strade se ce ne riguardate tutte lui non solo te va bene qui c'è questa barra e sta sempre più nel mezzo però va bene lasciamo la legge Montespertoli allora noi abbiamo previsto che i contenitori ci possano o essere riportati ai lecci se vi entrano in macchina perché ha quelli piccoli ok oppure quando andate a un qualunque altro sportello sul territorio di alia ma abbiamo previsto anche un calendario di ritiri a domicilio che era allegato alla vostra lettera quando vi è arrivata eh se lo ritrovo perché è stato pubblicato qui da qualche parte venite presso uno sportello richiedere una visita dov'è? no perché gliel'ho girato oggi a a Carlotta eh gliel'ho girato oggi a Carlotta e gli ho detto guarda questo è quello è quello nuovo il calendario dei vecchi contenitori eccolo qui c'è questa ma sta roba ma non si può oh oh via eccolo qua vedete ci sono le istruzioni partito qualcosa levati tu ci sono le istruzioni si possono ritirare a domicilio va bene e qui ci sono delle date noi facciamo due passaggi su tutto il territorio del comune di Montespertoli sono dei sabato mattina eh facciamo i ritiri di sabato e ne facciamo un primo passaggio a novembre e uno a gennaio quindi passiamo da tutto il territorio almeno due volte e sul capoluogo tre volte vedete il sul capoluogo il 28 ottobre il 2 dicembre il 3 febbraio poi c'è Fornacette, Lucardo eccetera eccetera il 4 novembre il 13 gennaio eccetera qui sotto sul retro c'è l'elenco delle vie quindi voi il venerdì sera quando chiudete l'attività li esponete fuori con un cartello sopra appicciato scritto a mano come volete voi da ritirare per alia e noi passiamo la mattina dopo con il camion e li portiamo via c'è un calendario quindi noi si passa a prescindere ok quindi li impilate mettete li ordinati chiaramente non il cambio dei contenitori è gratuito non so se ha detto la signora diceva ma quanto costa cioè non ci sono cose da pagare cioè noi il servizio di consegna e ritiro dei contenitori a domicilio per chi ha contenitori grandi non c'è niente da spendere direttamente ecco chiaramente siccome non è niente gratis a questo mondo perché poi lo dice allora che lavorate gratis no rientrano nei costi generali del servizio cioè fa parte del servizio portare e riprendere i contenitori a domicilio alle persone c'era la signora la A che diceva noi abbiamo tante categorie diverse per ogni il rapporto delle raccolte differenziate è sempre lo stesso ogni categoria farà i rifiuti che ritiene opportuno fare voi avete già avete un aggregato attualmente cioè avete la condivisione l'utilizzo condiviso dei contenitori che avete in dotazione oppure ogni utenza quindi ogni categoria ha i propri contenitori allora per non fare confusione va bene perché comincia a diventare poi se no anche abbastanza complicato noi gli aggregati li possiamo fare che è l'utilizzo condiviso di una sola batteria di contenitori va bene però per le utenze non domestiche comincia a diventare un pochino complicato e noi ce la siamo riservata per esempio per alcuni agriturismi perché hanno quelle casette sparse nel bosco e quindi c'è un unico punto d'accumulo anche per i turisti che poi vanno lì e svuotano oppure per le villette bifamiliari o trifamiliari dove stanno magari più persone ma sono parenti va bene per le utenze non domestiche per i condomini veri il nostro consiglio è quello che ognuno abbia perché poi arriva la fattura tutta prima perché nelle utenze non domestiche la fattura come arriverebbe la parte variabile viene caricata tutta su un'utenza quell'altro non c'hanno la parte variabile quindi viene una bolletta poi stratosferi esatto esatto avrete anche l'esclusione delle superfici avrete l'abbattimento perché se producete rifiuti speciali non ci pagate la pari su quelle superfici esatto ma quando siamo venuti a fare il sopralluogo ok dopo se mi lascia il nome si guarda un attimino sì va bene si riguarda senz'altro si riguarda se poi vi potete avvicinare un attimino prima di uscire allora il compostaggio domestico la riduzione è prevista però solo per le utenze domestiche come era prima sotto questo aspetto non cambia niente c'è l'articolo 29 del regolamento un'apposita riduzione per il compostaggio domestico per quanto riguarda chi ha i contenitori fuori che per un motivo o per un altro sono accessibili a estranei cioè questo ora poi dipende dalla tariffa rispettiva è che purtroppo questi comportamenti ci sono noi attualmente non diamo contenitori chiusi con la chiave non ce l'abbiamo e quindi bisognerà trovare allora non ci sono multe da pagare perché qualcuno ha parlato di sanzioni dice ma chi viene multato e la paga la multa non ci sono le multe da pagare mettono l'avviso di non conformità esatto il bigliettino gli operatori se trovano materiale mischiato mettono l'avviso di non conformità lì bisogna trovare una soluzione un po' più artigianale mi permetto di dire però veniamo anche lì e vediamo e possiamo concordare magari un altro punto di esposizione che magari può essere un pochino più sì sì allora poi mi permetto scusate mi riallaccio a questa domanda per dirvi anche un'altra cosa per esempio un'altra piccola criticità che abbiamo notato in quei comuni che sono già passati a corrispettiva e che prima non avevano le riduzioni perché in questo gruppo di comuni c'era anche qualcuno che aveva il servizio da una parte e l'affari dall'altra cioè questi due mondi non comunicavano se avete un come dire un'area esterna privata recintata dove noi abbiamo l'accesso e veniamo a svuotarvi i contenitori va bene il consiglio è di non tenere tutti i contenitori nel punto di esposizione dove l'operatore passa e tutte le settimane vi svuota il grigio che sia pieno che sia mezzo che sia meno che sia ma di tenerli di mantenere se per voi è più comodo lo dico anche per le persone che ci seguono da casa se per voi è più comodo tenerli all'interno perché così vi tutelate da questi eventuali abbandoni o conferimenti da parte di estranei però non li tenete tutti nel punto di esposizione perché quando il camion entra l'operatore nostro svuota quello che è lì quindi il grigio se no ve lo svuota tutte le settimane quindi il consiglio è concordare con noi un punto di esposizione anche all'interno del vostro della vostra azienda se avete delle aziende grandi ce ne sono diverse a Baccaiano insomma ci sono anche delle aziende abbastanza importanti che hanno anche tanto posto fuori come dire concordate con noi dice guarda il punto di esposizione è questo quello che trovi qui lo svuoti ma quello che non è qui non lo svuotare perché ci sono state alcune aziende soprattutto a Borgo San Lorenzo perché anche lì c'hanno tanto posto poi sono meno ora Empoli erano un po' più scafati devo dire che sono stato un po' più furbi però a Borgo San Lorenzo è successo questo tutte le volte entrava il camion gli svuotava tutto oggi c'è la carta via si svuotava poi arrivava il grigio si svuotava anche il grigio e poi ci hanno detto ma non erano sempre pieni questi contenitori a volte erano mezzi e quindi ci è toccato tornare un po' quindi a voi ve lo dico prima ecco chi ha i contenitori all'interno e il camion entra all'interno non sì ma io vi consiglio proprio di spostarlo come dire fare mettere anche un cartellino punto di esposizione alia l'operatore si deve fermare lì quelli che sono dieci metri più in là non li deve toccare quando si viene a fare il sopralluogo quando si viene a fare il sopralluogo lo concordate e per quel signore che diceva appunto giustamente faceva notare che gli mancava una frazione di rifiuto cioè il vetro vediamo proprio a fare la simulazione anche da solo con il simulatore se poi vediamo un attimino immagino tutto questo vino che produce saranno dei cartoni avrà una grande produzione anche di carta e cartone probabilmente l'importante lì è magari abbassare un pochino il grigio no? quello più piccolo da 23 litri allora penso che non avrà problemi la mano sul cuoco non ce la metterebbe bisognerebbe riprendere il simulatore e rifarlo se vuole dopo prima di andare via lo rifacciamo se no lo fa da sé ma insomma ho saltato ho saltato le associazioni scusate eh ho saltato le associazioni allora l'associazione sono come tutte le altre utenze non domestiche sono in categoria 1 e quindi hanno diciamo una delle tariffa più bassa di tutta la gamma delle 31 categorie però il meccanismo è per tutti lo stesso se fate questo merita un punto di attenzione la ringrazio per la domanda allora noi abbiamo fatto una sperimentazione una sperimentazione abbiamo provato sulla nostra pelle quella di alia ma anche quello delle contrade di ficecchio che voi sapete sono molto molto attive con cene venti quelli fanno le cene delle contrade sono 200 300 eccetera allora vi do una piccola informazione in più che è fondamentale il calcolo degli svuotamenti minimi del grigio è pro die vale a dire giorno per giorno perché se uno durante la l'attività si accorge di aver preso il contenitore troppo piccolo o troppo grande ovviamente lo può cambiare gratuitamente come succedeva fino adesso questo non cambia per cui se all'interno di un periodo di fatturazione uno ha fino a mettiamo il primo trimestre dal primo gennaio al 31 marzo se uno fino al 10 febbraio aveva un contenitore da 120 litri del RUI che poi cambia con due da 23 dall'11 fino al 10 febbraio pagherà gli svuotamenti minimi due al mese sul 120 litri calcolato in base al numero dei giorni in cui li ha trattenuti quel contenitore dall'11 febbraio pagherà invece i due da 23 litri per i giorni che restano da quella rata lì fino al 31 di marzo quindi il calcolo è pro die per quanto riguarda le associazioni noi con le contrade abbiamo concordato questo loro hanno un periodo fitto di eventi che durante il palio aprile maggio eccetera va bene in quel periodo lì come ho detto anche alla signora prima del per l'agriturismo possono chiedere dei contenitori aggiuntivi sia delle raccolte differenziate ma anche del grigio in modo che quel calcolo lì gli viene pro die uno può prenotare questi contenitori e dire li tengo 20 giorni perché ho da fare la sagra di tortello non lo so che sagra si fa qui non lo so la sagra di tutti gli animali bisogna fare le raccolte differenziate guardi mi ci sono finita la voce a parlare con le contrade perché utilizzavano tutte le tovagliette di TNT tessuto non tessuto e va tutto nel grigio gli ho detto mettetele di Arta perché sennò e quindi anche durante queste feste bisogna separare separare i rifiuti le associazioni però è vero le do ragione sono situazioni un pochino più complesse da gestire soprattutto perché ha dei picchi di produzione che fa un po' così però una soluzione la troviamo vi consiglio di prendere contenitori insomma ridimensionati e poi cercavi di fare più raccolte differenziate più potete perché a volte si fa miravoli a volte si fa allora aspetta vediamo se non c'è niente da casa posso? grazie allora da casa non c'è niente vai la domanda è chi prende il contenitore per il blu utenza ovviamente non domestica deve prendere anche i sacchi no ovviamente sono alternativi se ci interessa ti lascio anche un sacco però il tema sono ovviamente alternativi cioè chi c'è il bidone l'utenza non domestica non c'è il sacco il sacco per il non domestico diciamo e per chi ne fa pochino non c'è spazio la devora prima o la merceria è ovvio no 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 conferisce come ora attualmente non ti cambia niente conviene il sacco secondo Linda l'associazione del multimateriale però è una scelta anche qui misurare quello che per esempio l'associazione tua perché io poi mi conosco sicché lo so che alla torre ci si va una volta ogni tanto e magari gli conviene il sacchetto perché è pochino che ne so alla Montesport probabilmente lì non viene a tenere il bidone grande perché ovviamente sono tutti i giorni lì e ci hanno 600 fesserati la settimana e fanno attività sportiva ecco dipende un po' dalla realtà vostra vai ah vero non sei risposto no le grandi utenze con grandi bidoni hai ragione perché la gestione fino ad ora era stata un po' a metà non l'ho toccato allora allora ehm fino al 31 12 il tributo è gestito dal comune e fino a ora era il comune che aveva la banca dati di tutti questi contenitori quindi è possibile che abbia avuto qualche difficoltà mi dispiace le chiedo scusa però ora che siamo in attivazione della corrispettiva o mi lascia addirittura il nome a me con un numero di telefono io poi domani la faccio richiamare da qualcuno per darle l'appuntamento però ora per i contenitori vi potete interfacciare direttamente con noi e dal primo gennaio anche per la Tari se uno vuole fare una revisione dell'abbattimento delle superfici per le attività produttive però non adesso ma dal primo gennaio in poi intanto per i contenitori siamo noi i referenti esatto sì 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 aspetta l'appuntamento le imprese no avevo mandato aspetti l'appuntamento per le imprese ovviamente che hanno esigenze particolari è la soluzione migliore no quindi anche perché da qui al 31 di dicembre c'è tempo se poi c'è problemi a prendere l'appuntamento eccetera tanto noi ancora siamo un po' in giro e si fa gli incontri a me penso chiunque di voi sappia dove trovarmi quindi un modo per fissare un incontro si fa questo lo dico anche i rappresentanti dei commercianti eccetera se c'è qualcuna che ha questioni particolari e si affrontano puntualmente una per una ecco però secondo me l'appuntamento per capire il soprallogo sui posto e la consegna sui posto è la soluzione migliore allora c'è Fabrizio Aterina poi va bene vai la gestione passa che ti richiedeva e allora te lo spiega Caterina c'è una domanda no vai allora grazie 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 no questo ti rispondo su incontri particolari no anche perché il tema è l'uscita delle aziende agricole dal servizio di rifiuti urbani quindi fino a che non è sciolto quello vale come tutte le altre aziende vedete puntualmente quello che c'è da fare si prova a vedere quali sono le aziende però sapete siamo in un regime transitorio dove l'azienda deve in questo momento comunicare di uscire dal sistema dei rifiuti urbani tanti di voi non l'hanno fatto arriverà un momento in cui non sarà più possibile starci quindi per ora l'Ato ha fatto questa cosa dove ha mandato questa lettera dove le aziende agricole se non comunicano di uscire rimangono dentro però è un tema molto dibattuto ecco quindi sicuramente ci saranno incontri per parlare di questa cosa qui poi del resto delle superfici vale come le altre aziende che conferiscono rifiuti speciali sì riguardanti l'uscita quello sulle superfici vale l'appuntamento da fare e per capire puntualmente un'area queste cose qui c'erano altre domande ho perso Fabrizio e poi Cianti da Botinaccio vai sì la cantina sociale sulla sì forse non basta lì abbiamo usato un incontro di otto metri e mezzo in verticale non c'hanno nulla se non ci sono le piante siamo a posto allora questo ringraziamo la cantina sociale per la disponibilità ecco vai a te di sicuro perché a Botinaccio ci sei altro allora comincio da questa io tanto io vi dico quello che penso sul fatto che per le utenze non domestiche la riduzione cioè quando abbiamo fatto l'incontro dei cittadini il tema del vetro era ovviamente avere la campana più vicina possibile perché se anche devo portare un sacchettino o un 3-4 bottiglie comunque voglio la campana vicina o l'ecotapa e comunque fa comodo perché magari che ne so quelli sono un casano 2 quanto vetro faranno o 3-4 bottiglie ogni tanto hanno anche magari carri a batterie e telefono telefono vecchio allora le file questa roba qui vuole out up e può tutto insieme e per il cittadino questo è migliorativo è ovvio se è sempre detto che il tema il tema del vetro è per certi tipi di utenze non domestiche soprattutto chi ne produce tanto come chi ha a che fare con il pubblico da un punto di vista di somministrazione che poi sia assistita o meno assistita come nel caso dell'agriturismo però l'agriturismo affitti e le camere c'è gente che ci mangia va a fa spesa e se uno viene a Montespertoli anche giustamente invogliandolo noi deve comprare un po' di vino se no è inutile produrlo e quindi lo consumerà da questo punto di vista secondo me invece sui calcolo non influisce più di tanto perché è un rapporto e il rapporto è pensato già escludendo il conferimento di vetro quindi quello che Linda ha fatto vedere fino a prima non c'era il vetro quindi non è che dice io oggi ho 120 litri cioè bisogna riparametrare il proprio bidone e ritornare a fare quel rapporto lì se serve prendere il bidone da 120 bene da 240 bene di multimateriale se invece serve più piccolino e guarderò l'indifferenziato e lo prenderò più piccolino per ritornare a avere quell'equilibrio lì quindi secondo me è solamente una questione di capire qual è quello che mi fa più comodo prendere è per questo che vi serve secondo me una consulenza in questo momento per ritornare lì non incide il fatto che non ci sia più il motivo per cui no era vai grazie a tutti Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Raccogliamo in maniera differenziata plastica e vetro insieme e non stiamo mandando niente al riciclo da questo punto di vista. Secondo me la cosa da chiedere è ma perché tutto questo vetro non si può fare quel vetro a rendere? Noi bisogna fare uno scatto in avanti, noi a oggi il vetro è l'unica fonte riciclabile all'infinito perché il vetro si ricicla all'infinito. Abbiamo il compito di fare questo quindi da una parte bisogna porsi il tema. Poi secondo me a oggi che fai per mettere fuori il bidone del blu? Uno lo spinge fino al luogo dove lo fa conferire Alia perché dubito è Alia venga dentro il castello di Sonnino a prenderlo. Quindi lo porterà fuori e lo... No, aspetta. No, però... Però, allora, figuriamoci se è perioloso per il cittadino che lo fa una volta alla settimana. Poi l'operatore lo fa tutti i giorni, è un'altra cosa perché questo c'è un problema di sicurezza del lavoro, di chi va a raccogliere il vetro e lo butta... Però, prima come facevi, prendi il bidone di blu e lo porti fuori. Giusto? Spendi. No. Però non ho finito di fare l'esempio. Non ho finito di fare l'esempio. Grazie a tutti. Allora, a questo punto, poi chiudiamo la questione del vetro. La raccolta monomateriale del vetro, fatta con dei mezzi compattanti, perché deve essere fatta con dei mezzi compattanti, altrimenti non bastano, va bene? Il vetro si scheggeva a finire negli ingranaggi, quindi non è possibile fare una raccolta e tuttora succedeva nel comune di Montespertoli con il multimateriale mischiato, va bene? Poi ci sono le schegge di vetro che prendano e partano e quindi gli operatori sono sempre a rischio. Inoltre c'è una manutenzione dei mezzi, perché l'avete visto il vetro, i camion che passano a raccoglierlo non sono compattanti. I vasconi che svuotano le campane, voi non ce l'avete le campane, ma se vi è capitato di passare da qualunque altro comune di Aria, vedrete che i mezzi che svuotano il vetro non sono mezzi compattanti, perché sono delle vasche, va bene? Che lasciano il vetro in quel modo. Perché? Perché quando arrivano all'impianto il rottame di vetro deve essere, come dire, meno frantumato possibile e comunque si rompe, perché il vetro si rompe, per forza. Però se arriva a bricioli, a schegge, chiaramente ha un minor percentuale di riciclaggio. Anche la manutenzione dei mezzi, noi abbiamo provato a fare questa cosa e molti esperti, era l'ultimo comune che era rimasto come baluardo di questa raccolta mista, che in realtà non ci permetteva l'avvio, il riciclaggio e il recupero di questi materiali, perché le schegge di vetro si vanno a filare nella plastica. Quindi l'unica vera alternativa, tecnica, indipendentemente dal costo del servizio, l'unica vera alternativa sarebbe fare la raccolta monovetro a domicilio, solo del vetro, va bene? Questo comporta prendere dei mezzi che non sono compattanti, perché non si può compattare perché il vetro si infila nei granaggi, quindi ogni due giorni il camion va a manutenzione, tutta una serie di cose, e quindi fa passare dei camion grossissimi o tanti piccoli camion, per cui il costo del servizio quadruplierebbe sostanzialmente. E comunque non sarebbe sicuro per gli operatori, ancora cosa del genere. Per cui io lo so perché tra l'altro abito a Empoli, abito tra l'altro dalla parte di qua verso Martignana, quindi è una zona che conosco bene Montesperto, e lo so che c'è questa peculiarità e che per il tessuto sociale e economico di questo posto è importante, però vi dico anche che abbiamo tutti gli altri comuni che da anni ormai hanno adottato questo sistema, e ci sono anche altri comuni, c'è tutta la zona del Chianti, c'è tutto, insomma, San Casciano, Pruneta, inutili e ve li rammenti tutti, insomma, il vino non lo beviamo solo a Montespertoli, ovviamente non lo bevono a Santa Roce, questo è chiaro, lo comprano ma non lo producono. C'è bar che se fanno la cedera. Però vi posso dire che sulla base dell'esperienza decennale che ci siamo fatti, è vero che per voi comporta un po' di sacrificio in più, io questo non lo misconosco perché non posso dire che non sia vero, però è anche vero che a livello di servizio, guidando tutto il processo nella sua globalità, dall'A alla Z, è quello che trova il miglior punto di equilibrio, per come l'abbiamo organizzato. Questo signore poi risponde a queste due domande, abbattimento delle superfici, la presentazione dei... Allora, la riduzione per l'abbattimento delle superfici perché ha aree produttive, una volta richiesta, è presentata, è accettata, vale per sempre, va bene? A meno che non cambi qualcosa. Però la presentazione dei formulari entro il 31 gennaio dell'anno successivo, quella si mantiene, cioè deve dimostrare che in realtà su quelle superfici voi avete uno smaltitore autorizzato, quindi la trasmissione dei formulari c'è ancora, c'è sempre stata, anche per tutti gli altri. Solo i formulari, non dovete ripresentare la richiesta di abbattimento delle superfici, quella una volta richiesta va avanti per sempre. Quando vengono quelli che voi avete chiamato i nostri consulenti per domicilio, dice ma ritirano e portano, in realtà no, perché noi produtteremo un corriere per portarvi contenitori, io vi chiedo cortesemente di utilizzare il calendario che prima ho condiviso per restituirci vecchi. Sì, sì, tutti, tutti. Li mettete fuori tutti. Esatto, sì. Sì, sì, ve li portiamo noi quelli nuovi. Corriere vi dà l'appuntamento. Ovviamente vanno messi fuori dopo che per apportare Corriere. Perché io ho fatto il conto, il 28 a casa non mi passano, ma se ancora non sono andato ai leggi non glieli posso mettere fuori. Abbiamo risposto a tutte qui? Ce ne siamo diventati qualcuna? Ciao, se qualcuno ha bisogno, noi rimaniamo qua. Ah, c'è ancora un'altra domanda. Tra voi tre. Vai. Come ti pare? Esatto. No, i bidoni ve li consegnano lì e con il calendario di ritiro, una volta che hanno portato degli nuovi, metti fuori, il sabato che passano dalle fornacette, quelli vecchi. Allora, il primo sabato ci sono andata io a fai turno, anche io a fai turno a dare informazioni. E da quanto siete precisi? Allora, il messaggio è che tutti coloro che hanno contenitori che possono caricarsi in macchina, ovviamente riferito soprattutto alle utenze domestiche e ai piccoli negozi, chi non ha i contenitori con le ruote, per favore vadano i leggi, noi ci raccomandiamo su questa roba qua. Chi ha un territorio grande, che non li può trasportare, ovviamente si viene noi. Allora, uno è venuto con un carrellino, aveva attaccato il carrellino alla macchina, c'era tutti i bidoni con due ruote, quattro ruote, c'era riportato ogni osa. Non si è ringraziato cento volte, ma veramente? Quindi, ecco, no, fa per dirlo, ci si è fatta anche le fotografie. Allora, se non c'è altro, noi siamo qui comunque, quindi chiudiamo l'incontro e rimaniamo a vostra disposizione.